Ciao a tutti ragazzi, sono PepgioGames e stiamo di nuovo su Minecraft Dovete ragazzi se sto caricando molti video di Minecraft L'ho lasciato da parte con gli altri giochi Ma non vi preoccupate perché tra poco Che cazzo? Chi è? Ah vero, ci abbiamo come ospite Andama Smile And... Allora ragazzi Comunque ho creato questo parkour per Andama Smile Che lo farò anche io insieme a lui Che in pratica si dovrà riuscire a finirlo E non credo che per domani ce la farà Comunque ragazzi questa è una gara Io l'ho collaudato però non l'ho collaudato bene Quindi non l'ho collaudato tutta però si potrebbe fare Comunque raga Che ti vuoi dare ad asportare Ok Ti ti hai ad asportato là Tu puoi lanciare una freccia nella parte che ti vuoi dare ad asportare Però questo vale solo nei primi due livelli Nell'ultimo livello non vale Il checkpoint No, nell'ultimo livello non vale Allora ragazzi Incominciamo Tre Ah poi ragazzi Tre, due, uno Via Poi ragazzi mi sono comprato anche Battlefield 4 E quindi arriverà a brevissimo Una nuova serie su Battlefield 4 No Porca miseria Se cadi riparti eh Io non lo uso perchè sono già il creatore Quindi già so abbastanza come si va Quindi più o meno E arrivo al checkpoint Ribattiamo da qui di nuovo Non puoi volare Trede o no Come on Sì Benissimo Un altro checkpoint No Cazzo Difficile neanche io Dove riesco a fare No Minaccia alla miseria È impossibile È impossibile Adesso vai avanti Fermo Non ho scifatato Minaccia Dove cazzo vai? Allora Adesso qui No dai Si ferma Vedi che poi si aggrava anche a te Vedi che pure tu dopo il tipo Adesso qui Si si no Vabbè mettiamo di checkpoint Vai Mettiamo un checkpoint Qua E Un checkpoint Qua E un altro checkpoints Qua Basta checkpoints Quindi ripartiamo tutti da qua Vai Porca miseria Eh si Parti da qua Attenzione Attenzione Non sto volando Guarda che so Mi sono scoglionato solo Eh adesso tu stai volando Come cazzo Eh scusa Eh scusa devo passare Eh qui come vediamo cosa facciamo Sì Oh scifata di qua No 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 Scifata di qua Avanti E di qua Sì Grande Buona tattica Dai Ma ti sei fermo Dai Vado Devo arrivare A quell'altro Checkpoint Arrivato Infatti non so Qua Qua Scifata di Bravo Con tutina così Ok Allora adesso raga Se l'avete notato Ci sta una scala Da quest'altra parte Ecco Mettiamo un checkpoint qua Mettiamo un checkpoint qua Sennò qua non finiamo mai Eh sì Una alla volta Porco È impossibile Che cazzo significa Ci Che vince Che we are the champions My friend Dun dun Eh ragazzi Per questo video è tutto Lasciate Oh no Non fare spazio Un cazzo Un cazzo Un cazzo No no Dai Dai Ma devo Mi ricosferisci tutto Tu te lo giuro Ciao Andiamo su smile Comunque ragazzi Lasciate un mi piace Iscrivetevi Commentate Ditemi anche nei commenti Se per esempio volete Altre gare Altro parkour Su minecraft Ve lo credo Faremo la continuazione Una nuova serie Iscrivetevi Al prossimo Video Bella ragazzi Al prossimo 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 Al prossimo